Il primo umore non potrebbe essere altrimenti per una prestazione che, come vuole definire, oggi è anche difficile trovare un qualcosa che magari non gli è piaciuto Gasperini. No, no, vabbè, chiaro, vinci 3-0 a Napoli non puoi che essere felice, soddisfatto, ma anche per il modo in cui abbiamo vinto. Abbiamo creato tanto, già dal primo tempo abbiamo creato diversi giocatori, ma questo per noi è diventato indispensabile, dovendo giocare così tante partite abbiamo attraversato un periodo veramente eccezionale sotto questo profilo e forse di lì è nata proprio questa capacità di ruotare più giocatori ogni partita e poi anche con le sostituzioni trovarti sempre una squadra competitiva che può tenere bene il campo. Scamacca però è arrivata alla quinta partita consecutiva da titolare. Nell'intervista poco fa ci ha detto che non mi importa di giocare, l'importante è che la Danta vinca. Ha detto la verità? Beh, oddio, è chiaro che è importante giocare per tutti quanti, però credemci io che c'è molta verità. Questo Toloi e poi è arrivato Martin il secondo anno che era già stato qui e quindi quest'anno c'è anche un mix di giocatori che sembrano che siamo qui da tanto tempo ma non è così, tipo Copp, tipo Ederson, Jim City sì, ai quali si sono aggiunti anche la freschezza di Scalvini, di Scarnesecchi, di Ruggeri, adesso di quelli davanti, di Ketala, Scamacca. È un bel mix, è un bel mix che sta crescendo e di questo hai ragione, sono anch'io convinto che questo sia un bel trofeo. Poi speriamo di lasciarne uno vero, però questo per noi vale una coppa. Sì, velocemente prima di salutarla come sta Scalvini? Scalvini ha un risentimento nell'ultima azione che tra l'altro è intervenuto per salvare un gol e vedremo, vediamo domani lui. Zappacosta sembra molto meno, Scalvini preoccupa un po' di più però possiamo sapere solamente domani. Si è dovuto allungare per togliere un potenziale gol. Gasperini un messaggio da mandare prima di salutarci? Sì, teniamo un razzismo fuori dai nostri stadi e dalle nostre vite, insieme e ovunque, keep racisms out. Grazie, grazie.